un caro saluto a Milena Nosseri, ciao Milena benvenuta, il nostro ospite Giuseppe Ferrara benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito, il maestro Andresciani, ciao maestro buonasera a tutti, ciao Alessandro, ciao Giuseppe e Milena allora Giuseppe nel frattempo insomma che impariamo a conoscerti con le famose domande di rito insomma parlaci un pochettino di te, io nel frattempo ti cambio il nome, me ne sono accorto adesso, parlaci insomma un po' di te, della tua attività con Blender va bene, allora sono veramente nuovo in Blender, ho iniziato a modellare nel metà 2021 quindi cosa sono neanche due anni e mezzo che sono nel mondo di Blender ma dietro di me ho uno storico supergiù di dieci anni dove ho potuto girare il mondo anche lavorare tanto all'estero in poche parole e vengo dal mondo di architettura ossia utilizzavo Rhino come motore per modellare e Rhino siccome non ha un motore per renderizzare insomma ce l'ha ma molto scarso mi sono appoggiato a K-Shot questi programmi erano tutti a pagamento 900 euro all'anno di programma che andavo a pagare quindi ok, fatturavo, c'era il business andava abbastanza bene, senz'altro però vedevo poi insomma delle cose che non andavano soprattutto in K-Shot non mi permetteva di uscire con la texture in sé con il modello insomma ti pago, fammi fare quello che voglio adesso con il modello cosa intende per uscire? allora sì, potevo renderizzare, potevo effettivamente fare anche video montaggi video, addirittura potevo, creavo una length page dove tu fotogramma per fotogramma ti giravi il modello a 360 gradi ok? con anche l'angolazione, carinissima l'ho usata tantissimo, senz'altro ma all'epoca, 2016, una roba del genere era uscito Sketchfab e vedere il tuo modello 3D in Sketchfab era molto meglio di quello di 360 foto che girano insomma, puoi aprire una pagina internet all'epoca, anche con le connessioni molto scarse più scarse, dai, più scarse all'epoca effettivamente era pesante allora non poteva K-Shot, essendo proprietario cosa diceva? sì, tu entra con il tuo modello lavora con il mio programma ma non ti faccio uscire il materiale e quindi io in Sketchfab non potevo upare il modello con le texture insomma ah però, mica poco e mica poco insomma, mica poco però questo mi è servito ovviamente K-Shot mi ha dato una mano mi ha fatto fare dei rendering importanti insomma, soddisfacenti e passare a Blender in poche parole la tiriamo secca secca come mai sono passato a Blender? K-Shot gestisce i materiali utilizzando i nodi magicamente Blender ce l'ha quindi significa che ok, devo imparare anche in Blender su e giù ma il bagaglio di conoscenza di come gestire i materiali con i nodi ce l'ho grazie a K-Shot entro in Blender 10 minuti tra virgolette ho imparato imparerò ancora con tanti programmi si inizia magari con un programma e poi comunque tante similitudini te le trovi perché bene o male siamo lì infatti infatti e un altro esempio con Rhino Rhino utilizza per fare delle architetture un po' più complesse non sei tu manualmente a farle e se ce la fai sono molto meno precise e ci impieghi tanto tempo allora usa il GrassOpen in Blender si chiama ve lo dico subito si chiama Geometrist Node ok? Geometrist Node sì benissimo e quindi aiuta nella modellazione su modelli veramente più particolari e così via e quindi ho visto tante similitudini dai miei programmi in Blender poi Blender c'è un 360 gradi insomma dove mi giro voglio fare una cosa me lo faccio in Blender tutto live fermiamoci un attimo facciamo un attimino ordine innanzitutto diciamo da quanto tempo stai usando Blender in maniera tale ecco che le persone si rendono anche conto anche dei progressi che hai fatto in questo arco di tempo certo ho iniziato metà 2021 a oggi cosa sono neanche due anni e mezzo una roba del genere arrotondiamo e sono entrato con le porte aperte in poche parole ho trovato le cose che avevo la conoscenza forti ce le avevo Blender usciva il messaggio benvenuto insomma dimmi quello che vuoi io te lo faccio cavoli cavoli e quindi sei andato lì a ricercare le similitudini questo ti ha aiutato tantissimo e le hai trovate ecco questo è importante certo come succede in tanti software per esempio io adesso sto usando Godot per fare un po' di 3D eccetera bene o male ci sono tantissime similitudini le cose che ti incasinano un po' e che le stesse cose le chiamano in maniera diversa però poi alla fine ti ritiri sempre su Goe alla fine infatti infatti e quindi mi trovo mi trovo alla nel ragionamento che stai facendo ecco un anno e mezzo voglio dire dal 2021 ad oggi insomma sono quasi due anni o poco più però chiaramente con un bagaglio un bagaglio da di dieci anni ok dieci anni esperienze questo bagaglio mi ha portato anche a avere tanta fortuna ragazzi anche avere persone esperte dove ti trasmettono ti danno fiducia è tantissimo è tantissimo senza altro con queste persone sei finito magari in un ambiente favorevole ci sono tanti bravissimo ci sono quelli che non si riescono a esprimere esatto ci sono quelli che si tengono i segreti di Puccinella invece noi nella nostra community nella community di Blender in generale non dico in quella di Blender Italia ma parlo di Blender la community di Blender è bello perché le condivisioni fanno crescere molto rapidamente poi non è più il discorso a chi è più bravo chi si tiene il segreto ma è più bravo chi conosce applica e realizza chiaramente nel frattempo saluto Riccardo Giovannetti ciao Riccardo che è intervenuto ciao Riccardo bene parlaci un pochettino quindi delle tue esperienze il primo approccio in Blender com'è stato? allora il primo approccio in Blender dimmi che è stato traumatico come per me allora dico adesso che l'ho preso nel 2021 assolutamente no ma io lo conosco già insomma vengo da SketchUp vengo da altre programmazioni da AutoCAD vengo e vedevo sempre su e giù vedevo sempre Blender ovvio l'interfaccia grafica era paurosa all'epoca le prime versioni e non vedevo semplicemente ragazzi mi ha bloccato di iniziare con Blender perché non vedevo una linea di un metro io volevo in Rhino in Sketch in SketchUp si lavoravano con le NARBS giusto con le linee e così via in Blender no prendi la primitiva e trasforma e fai stupendo te lo dico oggi stupendo ma all'epoca mi mancava io dovevo fare planimeterie facevo ristrutturazioni per gli interni per i locali case e così via mi mancava il metro non lo vedevo c'era e allora è per quello che io mi sono bloccato subito con Blender e sono andato a gestirmi un po' più i CAD come Rhino e così via oggi quando entro quando all'inizio poi nel 2021 ho iniziato a lavorare con Blender ripeto non mi ha spaventato nulla perché quella conoscenza ce l'avevo ok perdi un attimo giustamente a seguire i tutorial a fatti capire in che mondo sei come lavori come i giri intorno al modello ok ma dopo una settimana a me è andata liscia come l'olio il programma ti permette anche di fare questo molti molto valutano Blender dal punto di vista della precisione Francesco ci ha fatto proprio un corso sulla precisione che si può ottenere in Blender eccetera molti non non approcciano perché pensano che non si possono fare certe cose di precisione invece non è così assolutamente assolutamente no anzi diciamo che talvolta la precisione nel lato artistico entra troppo prepotentemente lì invece l'artista soffrire la troppa precisione di Blender allora bisogna un attimino ma ci sono parecchie addon che ti danno la precisione e quindi gratuitamente o pagamento sono stupendi quindi ti danno la precisione se te la cerchi assolutamente maestro no volevo aggiungere un'altra cosa che mi ha fatto riflettere tu Giuseppe hai detto non mi ha più spaventato perché perché intanto vi hai fatto esperienza su altri software bene allora io vorrei dire chi studia chi dice si vuole affacciare nel mondo del lavoro diciamo ma io cavolo magari in certi ambienti pretendono altri software proprietari bene iniziate con Blender perché le basi sono quelle cioè se adesso imparate a usare Blender e un giorno per sfortuna vi dovesse capitare di dover lavare con altri software che non voglio nominare perché però avrete già quel bagaglio di esperienza per cavarvela nel giro di poco tempo nel poco tempo siete già pronti ecco guarda non lo nascondo è successo anche a me insomma lo dico sempre io utilizzavo un altro software prima di Blender che mi ha aiutato insomma ad avere il primo approccio e quindi insomma un po' come tanti perché ci sono tantissime persone che soprattutto negli ultimi tempi approcciano a Blender lasciando altri per mille motivi mille motivi per chi decide decide perché la community è molto grande e molto vasta perché è a costo zero quindi per tante ragioni per chi soprattutto conosce le potenzialità ne capisce le potenzialità quindi per tante tante motivazioni Giuseppe cosa ci fai vedere? Allora più far vedere i miei lavori così vi vorrei dare una chicca in Blender che ho iniziato a masticare pretendevo anche un attimino quindi io utilizzando software diversi non li ignominiamo più per il piacere di Francesco allora cosa succedeva? che renderizzavo non volevo dire fare l'infamazione allora per renderizzare una scena complessa complessa poi vi faccio vedere ci impiegavo ore e ore per renderizzare una scena quindi se dovevo fare un'animazione ragazzi il mio pc mi chiedeva aiuto a un certo punto nel senso di dire di spegnere perché lo sforzavo tantissimo questo capita ancora a tutti voi spero di no ma a tanti di voi succede che cosa? succede che renderizzate e ci impiegate un'ora prendo una tempistica così standard per realizzare un rendering beh impostando quattro parametri tra virgolette ma soprattutto uno in Blender vi abbassa notevolmente ma abbassa a terra notevolmente il tempo di renderizzare una scena ok? questo vi permette domani anche di poter gestire la scena animata quindi se ci impiega poco tempo a fare un frame calcoliamo oggi ci impiegate un'ora ma chi vi fa fare chi è che gestisce? tenendo in considerazione che un rendering quindi un frame ce ne vogliono 25 per fare un secondo di video quindi immaginiamo 25 ore di renderizzazione per fare un secondo sarebbe davvero allucinante folia ecco usando un Mac benissimo avreste 25 ore di piacere però nel senso che guardi non è in un colore e anche per il Mac queste impostazioni vanno benissimo sia per chi utilizza una tipologia di hardware come CPU e GPU quindi scheda grafica e processore chi utilizza ovviamente il Mac va a beneficiare anche perché sono gli ottestati gli ottestati vi faccio vedere così vi faccio vedere questa presentazione così ci rendiamo conto per pubblicare il tuo monitor devi cliccare in basso c'è presenta clicca presenta perfetto condivisi il schermo condividi scegli lo schermo da condividi e poi io ti do l'autorizzazione allora schermo intero ok consenti ok ce l'avete sì la prima immagine la vediamo sì il divano perfetto perfetto allora questa scena è veramente corposa poiché c'è il sole c'è il tappeto con i pelucchi ci sono mille dettagli ossia i libri i vasi e così con materiali completamente diversi e così via e allora è una scena corposa è una scena pesante bene se io vado sotto impostazioni sotto sistema e vado a mettere la codifica cuda questo era lo discorso che la vecchia puntata che facevate con l'appuntamento con Milena no cos'è la differenza tra la cpu e la gpu e poi siete andati a prendere questo parametro che siccome non vi seguo in live per motivi di lavoro e così via vi volevo scrivere ma ho colto l'occasione che mi avevate invitato e ho detto ok me lo tengo buono questo argomento che sicuro servirà a qualcuno di voi allora utilizzando la mia cpu che è ovvio è l'ultimo processore dell'amd uscito ovvio ho una scheda grafica della nvidia alla 3090 ti è potente quindi non vi basate sul numero quello che vi dovete basare sono solo impostazioni e quindi drasticamente vi faccio vedere con il mio ma anche con i vostri computer drasticamente tirate giù i tempi di renderizzazione quindi se io clicco cuda quindi questo codec per renderizzare e utilizzo la mia cpu per fare questa scena ci impiego 6 minuti e 55 secondi ok se invece vado a utilizzare l'optx come codec utilizzando sempre la cpu sempre stessa scena non ho cambiato assolutamente nulla ci impiego 6 minuti e 54 secondi insomma un secondo in meno questo cosa ci fa capire che la cpu non gliele frega assolutamente nulla quale codec stai utilizzando invece la scheda video inizia a fare differenze bene con la mia 3090 Ti sempre in cura questo codec ci impiego stessa scena 2 minuti e 22 secondi significa che con il mio processore che ha 36 core chiedo scusa 36 core che è bello è bello potente l'avessi avuto all'epoca quando ero 10 anni fa sarei stato sulle stelle perché ci impiegavo 3 ore 4 ore per anche una fotografia avere queste prestazioni è bellissimo ma io vi sto dimostrando anche con una cpu meno performante e così via abbattete i tempi e vi faccio vedere successivamente come si comporta un processore stiamo sulla scheda video quindi sono arrivato a 2 minuti e mezzo a 2 minuti e 22 ma se uso l'optx perché sono arrivato a 1 minuto e 33 secondi semplice ragazzi la mia invidia quindi la invidia ragiona meglio o interpreta meglio il segnale con il codex otpx mentre francesco che usa il mac e quindi matematicamente utilizza la scheda grafica della md della radio e così via non utilizzerai tu francesco l'optx ma utilizzerai il cuda ok quindi dopo te le vai a impostare queste cose e vai a vedere la differenza che abbassi notevolmente il tempo di rendering in realtà il cuda magari il cuda ma anche il cuda il cuda è proprietario di md e scusa di invidia scusa vuol dire invidia ma non c'è quindi peggio di peggio non c'è perché perché litigarono non so quanto tempo fa litigarono i dirigenti non era Steve ma insomma si fece una guerra apertamente e da quel momento invidia non produsse più le schede video per mac e viceversa l'apple non vuole più avere a che fare con invidia e oggi la paghiamo noi utenti vabbè loro hanno sfornato poi l'M1 insomma stanno cercando un pochettino di mitigare il problema però beh non è questo tanto il segreto ragazzi per effettivamente abbattere i tempi dopo vi faccio vedere le impostazioni per abbattere notevolmente i tempi ok però ovviamente c'è anche da intervenire qua sull'optx e sul cuda chi può ovviamente bene adesso riprendo il processore vi ricordate che ci impiegava 6 minuti 55 secondi che cosa perché magicamente adesso sono passato di nuovo con le stesse impostazioni quindi il cuda cpu sono passato 1 minuto e 53 perché con la otpx con questo codec non ha cambiato nulla quindi un poche centesimo di secondo ripeto perché la cpu non gli frega nulla con che processore con che codec lavori beh ma qua c'è la bella notizia per chi lavora con la scheda grafica infatti da 2 minuti sono passato 34 secondi e se metto l'optx ecco sono passato 21 secondi per renderizzare la stessa scena ragazzi così complessa insomma è ricca non è un oggetto solo sono tanti oggetti tutto questo perché perché se lascio di fabbrica quello che mi propone blender io lo stesso rendering utilizzando l'optx come codec e utilizzando la mia gpu ci impiego 18 minuti tutto questo ok e ragazzi la prima volta i primi tempi di rendering con blender di 18 minuti ero l'uomo più felice del mondo perché venivo da una realtà di 2 ore di rendering hai cominciato a scalare il palazzo con le mani stavo volendo poi quando sono arrivato a 20 secondi l'aero svenuto l'aero svenuto giù per terra ok e cambia qualcosa un rendering da 18 minuti a 22 secondi sì ma la significa essere ferrara giuseppe insomma essere un rompiscatole la luce adesso non so quanto voi riusciate a vedere da me che steaming la luce a 22 secondi più debole più un peletto un peletto ragazzi più debole la scena la scena è un peletto più buia in 0 secondi come seguivo effettivamente i tutorial di francesco come gestire il compositor giusto? hai fatto dei tutorial francesco benissimo la ho capito effettivamente come regolare anche le luci come i bianchi i colori e così via bene una grossa potenzialità io all'epoca andavo in photoshop con la sezione filtro camera e avevo tutte le luci avevo da cambiare le ombre il bianco il nero il contrasto e così via beh adesso non mi muovo più da blender vado nel compositor e mi arricchisco di più la scena e quindi non vedo questa differenza tra due secondi di renderizzazione a 18 minuti ok? ma c'è c'è sì c'è ben la differenza ma adesso vediamo le impostazioni guardate qua sulla sinistra sempre quello che riuscite a vedere ma ve li lascio questi file posso chiederti una cosa puoi andare nelle impostazioni di blender e aumentare la dimensione dei font non sono in blender sono foto le vedi? ah ok scusa una foto è appunto per quello che io ve le posso inviare così le distribuite insomma volentieri ve le do ben volentieri allora lasciate super giù aspetta aspetta ingrandisco lasciate eh vigliaco lasciate tanto queste impostazioni che sì copiatele fidatevi di me copiatele gestite gestite un attimino dove dovete lavorare effettivamente dove vedete veramente i cambiamenti è proprio qua il noise io ripeto vengo da k-shot più aumentavo il noise più l'immagine mia perdeva di dettagli più ci impiegava a renderizzare quindi quando blender mi propone di fabbrica 0.01 e renderizzo in 18 minuti bellissimo ma quando ho cambiato queste impostazioni varie impostazioni ma questa è la più importante l'ho messo a 0.1 ecco che ho impiegato con il processore in 6 minuti a renderizzare e con la scheda video in 2 minuti senza perdere dettagli alla fine come sono arrivato a 22 secondi con la mia scheda grafica prossima slide utilizzando il massimo che nella mia testa non c'era questa logica utilizzando il massimo del noise di queste impostazioni che se lo mettevo in k-shot vedevo una macchia non vedevo dettagli non vedevo più dettagli perché il noise cosa serve? per pulire l'immagine dai puntini ci sono due tipologie diciamo di puntini in k-shot quelli bianchi che si verificavano sul vetro allora ecco c'era allora l'impostazione della luce spostare e te la cavavi ma quando uscivano i puntini e rimanevano là quelli neri poi ve lo faccio vedere sul mio modello che c'è ancora ti attaccavi al cavolo quindi dovevi alzare il noise alzando il noise in quel punto in quel range diciamo vedevi il dettaglio del materiale non so la venatura piuttosto la porosità di un materiale così via ok bene allora io dicevo ma è impossibile che a uno mi mantieni i dettagli sì c'è una caratteristica un particolare dovete per forza renderizzare le immagini a 4k non a full hd o 720p quindi più basso vai più perde dettaglio infatti nella scena dei vasi era più sfocato era mossa la scena messo a 4k che io ho sempre lavorato a 4k ecco che il risultato era più che soddisfacente niente sfocatura perfetto e in 22 secondi ripeto in 21 secondi riesco a creare queste scene piuttosto pesanti grazie sì alla mia scheda video ma questo se lo fate voi con qualsiasi computer di fascia media e basse che cosa andate ad amortizzare i tempi perché gestite questo parametro il noise questo qua e lo mettete quindi tu lo tieni a 1 scusa io lo tengo a 1 poi vi parlo e 4k di dettaglio di samples ragazzi 4k samples è una botta è una botta non lavoro a 1024 o a 2000 di dettaglio no gli sto dando 4k di dettaglio questo mi permette il mio pc ovvio voi l'abbassate abbassatelo a me piace metterlo a 12 poi abilitare il denoise viene tutto questo effetto bello pastellato mi piace da matti soprattutto con le luci volumetriche è uno spettacolo 12 sempre il denoise che bello tutto molto veloce esatto è anche veloce anche veloce è vero allora basta questa è la grazie è una bella è una bella idea la voglio sperimentare anch'io assolutamente col mac vediamo certo anch'io allora vi faccio vedere questo ok andiamo allora questi sono i prodotti questi 3 6 9 12 prodotti chiamiamoli in questo modo qua questi non c'entra niente più i clienti ecco io nel 2021 21 a metà del 2021 sono passato a blender perché ho chiuso il mio business diciamo l'ho interrotto per motivi familiari eccetera eccetera comunque l'ho interrotto attualmente ho ancora i vecchi clienti che mi chiedono fammi questo fammi quello senza altro però ho detto va bene ho l'opportunità di passare il dio denaro ragazzi lavoravo in rhino avevo clienti è ovvio che sfornavo i miei prodotti e così via e soddisfavo i clienti ovvio ma adesso che ho un lavoro provinciale sto bene tranquillo ho tanto tempo a dedicarmi a disegnare ecco che adesso inizio a disegnare le mie cose i miei pensieri ed è per quello che sono potuto passare in blender anche per questo motivo perché ho potuto lasciare il business basta non me ne fega nulla vado al mio lavoro la sera che rientro a casa la faccio così semplice mi sono potuto dedicare a blender senza avere il cliente addosso oh mi hai fatto il lavoro mi hai fatto il rendering no producendo magari cose che ti interessano poco no stavo dicendo queste cose bravissimo bravissimo c'è stato un breve periodo due anni dove io ho lavorato per la provincia altotesina per i progetti per le start up ragazzi è la cosa più bella che potete fare che potete fare ragazzi quando questa persona trasmette il suo entusiasmo del suo prodotto e tu gliela tiri via dalla testa perché soltanto in quel momento è soltanto nella sua testa il prototipo il progetto finale tu gliela tiri via dalla sua testa gliela metti a video gliela ruoti commentiamo miglioriamo le robe varie c'era gente che piangeva ok mi commuoveva quella scena si tagliava davvero ragazzi davvero perché la sua idea tutto quello che aveva che non poteva esprimersi disegnando qualcosa vabbè però tu stai parlando stai parlando di gente che è innovativa che vuole che tu esatto che cercano qualcuno che tiri fuori l'idea e quindi lì è chiaro che poi la commozione però poi sappiamo benissimo che magari invece c'è un certo tipo di clientela come quel meme spostami il gabinetto un po' più a sinistra spostami il gabinetto un po' più a destra un po' più a sinistra un po' più a sinistra e lì proprio si muore e ci sono passato certo e ci sono passato ovviamente questa è anche l'esperienza che ti porta poi beh a questo punto mi trovo a dire bene questi sono i prodotti che i prodotti i modelli ma vi voglio leggere un strafiletto giusto per capire ma come mai hai disegnato questa tastiera piuttosto questo modello che cosa ecco io non disegno io lo disegno il modello ovviamente ma non patto con l'idea mi sveglio domani mattina voglio disegnare questa cosa no il mio concetto è proprio al contrario questo progetto è partito dall'idea di riprodurre l'effetto di un ferro rovente ma cosa potevo marchiare un animale no sì perché non sono capace ragazzi non sono capace di fare la fisionomia umana l'animale non sono capace quindi adesso perché non avevo strumenti adesso con sculpting forse riesco a gestirmela forse e quindi cosa faccio meglio usare un pezzo di legno bene io parto dalla texture ok sono in grado di ripetere il più vero possibile insomma fotorealistico questo ferro rovente ok sono in grado mi alleno faccio sono in grado benissimo e allora poi mi nasce il modello in poche parole anche questa tastiera perché se sapevo disegnare un toro fidati chiedi al sedere gli mettevo il marchio ok ok quindi con l'esperienza conosce i propri limiti e sfrutta invece le potenzialità ovviamente certo ecco che un po' sulla geometria me la cavo un po' di più ecco che mi faccio questa tastiera tutto in nodi ragazzi tutto in nodi non c'è texture qua sul ferro si c'è texture e poi con i nodi vai a gestire l'emission e vai a gestire tutte le altre impostazioni il legno le venature tutto è fatto tutto in nodi l'ho fatto ovviamente all'epoca con K-Shot ma questo prodotto qua lo posso fare benissimo in Blender ok perché Blender ha la stessa tipologia di K-Shot ossia lavorare materiali con i nodi poi lavora in Photoshop tutte icone ragazzi anticipo Francesco ti anticipo quanto tempo ci hai impiegato a fare una vita oggi orgogliosamente ti posso dire una vita anche esagero ovviamente anche una settimana ok perché sono libero quando avevo il cliente dietro di me in giornate ti dovevo fare non così perfetto ovviamente ma in giornate ti dovevo dare dei risultati ok adesso in in settimane ecco partendo da questo discorso fermandomi in Blender vi faccio vedere non vedete l'animazione diciamo non sentite l'audio ma per animare questo prodotto qua tutto in Blender ragazzi qua devo ancora macinare su Blender ragazzi ce n'ho ce n'ho da fare in poche parole per gestire questo quest'animazione non ho utilizzato i ring giusto? i rig ecco io vengo anche da uno storico di After Effects quindi so benissimo fotogamma per fotogamma cosa significa lavorare è pesante non carica considera che lo diciamo sempre con il discorso dello streaming c'è una latenza molto elevata infatti va beh in poche parole non ho utilizzato i rig e tutto quindi sono andato conoscete Mixamo? si Mixamo come no certo benissimo cosa ho fatto? ho tirato giù in poche parole mi sono scaricato le ossicina e le animazioni me le sono importate si me le sono importate in Blender semplicemente l'ho adattato al mio modello e ho fatto l'animazione ok? adesso se si carica ma se lo conoscete sapete di che cosa sto parlando ok? vai sotto download ad esempio no questo no si giusto per chi non la dovesse conoscere è una piattaforma online dove si possono scaricare appunto questi movimenti questi punto move che sono proprio movimenti estratti dal motion capture ecco una cosa che io non ho trovato perché sono andato a cercare però la semplice camminata un personaggio che cammina dritto io non ho trovato diciamo infatti è per quello che ti attacchi ok? quindi quel piccolo cotometaggio che ho fatto ho dovuto selezionare anch'io anch'io volevo che si doveva sono una camminata cioè una cosa non so camminare no? non lo so perché è troppo comune forse questo perché è troppo comune ecco in poche parole in download with skin no without quindi senza skin soltanto le ossa 60 frame e me lo sono scaricato l'ho implementato nel modello e poi magicamente l'ho renderizzato questo prodotto con ivi ok? ivi ragazzi sempre con una logica dietro robovare renderizzavo un secondo massimo è 10 un secondo a fotogramma quanto ci impiega a renderizzare una foto insomma adesso che non vediamo il video vi invito di andare a vedere insomma un secondo il fotogramma svenuto ok? grazie blender ovviamente ma mi stai dando doppi colpi ok? Giuseppe c'è un commento di Pepino che dice che anche lui col suo pesciolino Nemo è passato da 22,5 secondi a meno di 10 perfetto quindi utilizzando un pochettino ecco e fatteli girare questi per avere anche dei confronti e robe varie ma lascia stare che bestiolina c'ho io ovviamente i 22 secondi non pensate che arrivate anche voi a 20 chi ha un processore o una scheda grafica 2080 quindi scorse scorse generazioni non puoi arrivare a 22 secondi per una scena prendiamo la mia uguale ok? però ammortizzate veramente abbattete che ammortizzate abbattete notevolmente i tempi di rendering bene allora mi potete trovare in questo canale in Beansi se si pronuncia in questo modo qua perché c'ho il bagaglio diciamo di dei miei prodotti che faccio uscire e come vedete ho soltanto facciamo finta questa qua della birra della spina ho 39 visualizzazioni giusto? 40 ok 40 visualizzazioni bene ma perché lo stesso modello ovviamente in Sketchfab e grazie nuovamente a Blender che posso esportare il modello e anche grazie Bake anche la texture io qua ho 304 visualizzazioni di cui la cosa che mi fa felice veramente ragazzi e sono 113 download significa che io ho soddisfatto ok un paragone ok in questo punto sono felice ovvio che te l'ho messo gratis perché se te lo mettevo a 50 centesimi ci sarebbero stati di meno ma non mi interessa a me i soldi non mi interessa e non sono poi modelli effettivamente messi là in 10 minuti renderizzati fatti no con vari dettagli e tutto adesso non so cosa riuscite a vedere effettivamente tramite live però ci sono veramente dettagli allora mi sono detto quando ho visto questi numeri ad esempio il forno che è un forno delle pizze ragazzi ma mi è venuto abbastanza bene perché effettivamente riproduce l'effetto della lampada che si diventano un po' incandescenti anche qua 273 visualizzazioni 109 download bene allora significa che per un po' di tempo pubblicherò materiale su Sketchfab grazie a Blender che mi permette di farlo e scaricateveli usateli per fare quello che volete infatti il mio è cc ossia fanne quello che vuoi ok a me non interessa di guadagnare tanto foraggio dobbiamo salutarci perché purtroppo ti starei ad ascoltare ancora però purtroppo abbiamo finito il tempo il tempo di rando tutto molto interessante insomma visitate ecco i canali appunto di Giuseppe eccetera tra l'altro tu sei pure iscritto sul sito quindi c'è anche sì ci sono tutti i link eventualmente se vuoi registrati anche sulle altre piattaforme condividi tutto quello che insomma che fai in generale Francesco no dicevo e sperimentate anche questa questa cosa qui questa che ci ha mostrato stasera e vediamo condividete magari i vostri risultati come ha fatto come ha fatto Pepito per esempio ecco sì esatto esatto adesso mi raccomando non andate a letto perché dobbiamo andare tutti sul canale di Milena che tra l'altro mi accingo a postare sulla contro il V sulla sulla chat di Youtube adesso arriva c'è un po' di di ritardo adesso vi arriva quindi mi raccomando non andate a letto dobbiamo andare tutti sul canale di Milena per in diretta con Milena e il tuo ospite di stasera Milena Enrico Grotto Enrico anche tu diciamo che venerdì prossimo non ci siamo vero? sì esatto non ci saremo non andremo live perché siamo in procinto appunto della Blender Conference e vi ricordo che Blender Italia sarà nuovamente anche quest'anno per il sesto credo consecutivo saremo ad Amsterdam con la Blender Italia il meeting della della community italiana lì sempre in sede ad Amsterdam quindi non andremo live ma ci potrete vedere insomma online con i vari video eccetera cos'altro Francesco che mi sto dimenticando ho ripristinato il sito per chi ha visto che in questi ultimi due giorni il sito è stato giù perché ho dovuto fare delle modifiche adesso le modifiche le prime modifiche sono concluse quindi il sito è stabile per le prossime ci vorrà probabilmente fine novembre quindi però stiamo crescendo quindi questo significa che servono alcuni lavori tecnici per il resto il link l'ho messo ci vediamo allora sul canale di Milena anche tu Giuseppe se vuoi seguici sul canale insomma andiamo a sentire cosa ci dirà ci racconterà questa sera Enrico che tra l'altro sarà con me quindi sarà il mio compagno di viaggio e con lui come l'anno scorso staremo proprio a gestire la community meeting bene una buonasera da tutti ciao ciao a tutti ciao ciao ciao